Il torno recupera la palla in posizione molto pericolosa, Sanavri ha cercato, Mirancuc con il sinistro, il vantaggio del Torino appena arrivato, Alexei Mirancuc subito a segno per il vantaggio Granata. Il primo gol per Alexei Mirancuc con la maglia del Torino. Arriva Becao, il cross di Pereira, colpo di testa, appareggiato l'Udinese con Adam Masina. Splendido cross a spiovere dalla destra del Ducu Pereira sulla testa di Masina. Quamè una finta, va, Quamè in mezzo a due, passato, Quamè la mette dietro, Buonaventura! Apre benissimo, Cech, Buonaventura! La Fiorentina passa con la super giocata di Quamè, serve dietro Buonaventura che fa 1-0. Lo botca, ad avanti c'è Ozymane, lo botca a proprietà dello spazio, arriva in zona, tiro lo botca! 4-2 Napoli, con l'azione personale di lo botca, prende in largo la squadra di Spalletti. Si distende ma non ci arriva, Lorenzo Montipò. Quadrado mette giù, poi cerca di andare sul fondo, non ci riesce, Alexandro, parte l'altraversone. Sul secondo palo di Maria, si coordina, calcia! E trova in caldo il vantaggio della Juve, al 26esimo, anche il di Maria. 1-0, subito decisivo l'Argentino, che scuoca la situazione. La mia ricorsa ha segnato il numero 22, Alcone! 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 Grazie.